Eccoci con Giuseppe Buriola, l'autore del momentaneo vantaggio del Portogluaro. Innanzitutto come stai? Perché ti abbiamo visto uscire zoppicante? No, ma in posizione di salute il San Dute, l'anno e mezzo gioco che l'ho trattato in questa pubblicità. Mi dispiace per chi è venuto quest'anno, spero di venire fuori presto. La partita non si è conclusa come si sperava, è sembrato dagli spazi che avete giocato un po' tesi con un po' di paura nel secondo tempo. Tu dal campo finché ci sei stato e poi nei spogliatoi, com'è il morale? Come hai visto la partita? La settimana è un po' difficile, dopo che passa il derby, però non le voglio dire attirare tanto. Un po' l'attenzione da pure sbagliare quando arrivano queste... Dopo che venire la settimana così è normale, però siamo fiduciosi. Tu per le prossime partite fisicamente al di là di oggi pensi di essere in grado di recuperare al 100% o com'è? Io insisto su questo tasto perché insomma avere tutti i giocatori è importante. Ho fatto la vista l'edì a Milano e mi ha dato una notizia abbastanza buona. Perciò sei fiducioso insomma. Hai qualcosa da dire, qualcosa da recriminare o no? No, no. Va bene così insomma. Però ti vediamo il Capodomenica? Non lo so, però non lo so. Quello che deciderà il mister? Grazie, ciao.